così millenaria che racchiude tutto e che ha tantissime corrispondenze con tante altre scienze millenarie per connetterci al nostro potere perché noi siamo esseri di potere noi siamo esseri di infinito potere e non si capisce perché ce lo continuiamo a dimenticare e allora siamo qui per ricordarci questo potere e attraverso la pratica dello yoga possiamo connetterci alle sensazioni espanse alla mente espansa la nostra coscienza espansa